Video velocissimo, super mega, iper veloce, senza tagli né un cazzo. Devo dirvi una cosa importante e dirvela subito, anche se dal titolo mai avete capito. La Gilda apre domani, ovvero il 12 aprile. Perché apre domani e il video lo faccio da oggi? Perché si hanno 24 ore, nel caso uno esca dalla Gilda, per poi essere rigildati. Ok? Non si può uscire dalla Gilda ed essere rigildati immediatamente. Quindi, avete 24 ore, le candidature inizieranno domani alle 14 e mezza, quando c'era questo video, inizieranno le candidature su Discord, e stasera, dell'11 aprile, sarà messo il regolamento della Gilda. Quindi, voglio ripetere, domani alle 14 e 30 inizia la candidatura. Da oggi, 11 e 30, intorno alle 18, controllate che ci sarà scritto tutto l'orario. Tutto quanto. Cioè, tutto il regolamento, scusatemi. Tutto il regolamento ci sarà scritto. Niente tagli, non è da me, però video fatto così velocemente non posso montarlo, perché con rendering peserebbe di più e non uscirebbe il video. Insomma, sarebbe un casino. Credo che ci siamo capiti. Scusate per l'aspetto, ma si chiama quarantena, guardate, porca di una puttana. Che schifo. Oh mio Dio! Ma più ne tocco più diventano merda! Vabbè, eh... Spero di essere stato chiaro. Come aggiungimi su Discord è scritto qua sotto, come in ogni altro video. Una volta letto il regolamento, ok, potete chiedere l'accesso alla gilda. Chiaramente, chi chiederà prima, chi risulta essere valido, soprattutto se una persona legge il regolamento e quindi lo accetta in tutto, può entrare. Quando una persona accettasse il regolamento, però poi fa qualcosa contro il regolamento, sarà chiccato instant. Potremmo rimanere amici, scherzare e parlare quanto vi pare, ma nella gilda è un conto. Cioè, su uno stay nella gilda è un conto, ci sono delle regole belle e precise. Al di fuori si può anche parlare e scherzare più di... Cioè, insomma, si può... Baffanculo, ciao, vi dà qui!